... Riparte lo spettacolo dal centro sportivo Maracanà, secondo tempo della sfida fra Everton e Real Madrid primo tempo scoppiettante, terminato sul punteggio di 1-1 e qui la ripresa si apre con Simonetti che ha provato subito a riportare in vantaggio i suoi la compagine di Patrono Ruggero Ha perso anche la scarpetta in quest'occasione specifica, Giorgio che secondo tempo dobbiamo aspettarci? Mi aspetto per quanto riguarda l'Everton che Simonetti si carichi un po' la squadra sulle spalle col fine almeno di competere in questo match anche perché l'Everton si presenta con 5 giocatori contati quindi senza alcuna sostituzione dal punto di vista fisico potrebbe essere abbastanza rilevante questo dato mentre per il Real Madrid mi aspetto che la squadra ha sprombattuto, cerchi la vittoria adesso vedo in campo anche Giovanni Napolitano, un altro giocatore che regala giocate di classe vediamo un po' come andrà a finire Intanto ha provato a concretizzare la pressione l'Everton, non se ne è prodotta una segnatura ma Piscitelli qui lotta indomito a ridosso della fascia laterale contro Esposito che lo scaraventa a terra, arriva il fallo laterale proprio a favore del calciatore in maglia Granata Napolitano primo pallone toccato dal subentrato del numero 10 ufficiale della formazione Granata prova a far girare meglio la palla il numero 10 Napolitano serve De Luca la sua conclusione fa la barba al palo ma si spegne in un fallo di fondo intanto scende un vento gelido qui al centro sportivo Maracanà temperatura invernale ma tutto sommato gradevole rispetto ai recenti trascorsi che hanno visto continui nubi fragili abbattersi sulla struttura di Bosco Fangone mentre qui l'Everton prova a concretizzare il possesso palla Simonetti ne lascia un paio sul posto arriva il body check di De Luca costretto al contatto duro per fermare l'incedere dell'avanti inglese calcio di punizione per l'Everton sul punto di battuta Simonetti che si è anche guadagnato la punizione il signor Tufano posiziona la barriera alla distanza ottimale Barone sceglie tripla opposizione in barriera con Esposito Napolitano e De Luca Simonetti prova il tiro è un suggerimento per Piscitelli solo a tu per tu con il portiere arriva la gran parata di Barone completamente dimenticato dagli avversari Piscitelli qui Napolitano prova a tenere il possesso Simonetti ruba la sfera becca un paio di calcioni guadagna la rimessa laterale Simonetti Donato Simonetti perde la sfera riparte Napolitano fronteggiato da Donato ancora Donato lotta contro un paio di avversari Esposito guadagna la sfera Esposito ancora Esposito qui arriva anche la parata di Ciavoli scontri abbastanza duri su questa fascia è una netta propensione all'agonismo De Luca tenta il tiro ed arriva il vantaggio del Real Madrid che conclusione questa di De Luca Real Madrid 4 Everton 3 si una gran botta giando di De Luca che veniva correva dalla difesa tutto solo non considerato dagli avversari ha avuto tutto il tempo e la libertà di poter concludere in maniera vincente a rete vantaggio Real abbastanza meritato direi concretizzato bene il break offensivo del compagno di reparto di Tortora Simonetti qui finisce a terra guadagna un fallo prezioso al ridosso del limite dell'area calcio di punizione signor Tufano sistema la distanza la barriera ai consueti 5 metri del calcetto intanto fasi un po' convulse qui calcio di punizione per l'Everton animi convulsi il signor Tufano sistema la barriera consueti tre uomini in opposizione per il portiere Barone Simonetti il tiro sulla schiena di De Luca riparte Donato tenta il sinistro qui il contropiede del Real Madrid Napolitano solo a tu per tu con Ciavoli ed arriva il gol del 5 a 3 doppio vantaggio per il Real Madrid Napolitano timbra il cartellino al primo tocco utile prima azione efficace per Napolitano il numero 10 subito va in rete Real Madrid 5 Everton 3 sì c'è stata una disattenzione però dell'Everton su calcio piazzato la ribattuta è stata fatale nessuno copriva la retroguardia fa tutto facile per Giovanni Napolitano che non è riuscito a battere in prima occasione Ciavoli che ha risposto molto bene ma poi sul tap in successivo è stato spietato freddo l'ha messa dentro per il doppio vantaggio Simonetti perde per la seconda volta in questa ripresa la scarpetta il gioco la partita si è infiammata interventi abbastanza duri animi molto più infiammati e veramente ci aspetta un secondo tempo di fuoco un secondo tempo che finora è stato da pannaggio totalmente granata e vedremo gli sviluppi vedremo l'Everton come proverà a rispondere il tasso con il tasso tecnico altissimo di buona parte dei calciatori impiegati in campo da Patrono Ruggero si credo che l'Everton in questo momento stia pagando un po' il fatto di non avere forze fresche in panchina il Real sta ruotando tutti i calciatori di un certo livello che hanno voglia di vincere secondo me penalizza un po' i ragazzi in blu questa sera il fatto appunto di non avere sostituzioni nel loro roster mentre per quanto riguarda Simonetti sta almeno per ora rispettando le mie attese si sta caricando la squadra sulle spalle già il terzo fallo conquistato e seconda scappetta persa vediamo se non si trasforma nella cenerentola che perse la scappetta di cristallo lì su quella scala vediamo se riuscirà a conquistare la vittoria Piscitelli qui ha raccolto il suggerimento di Donato arriva alla tripla marcatura del Real Madrid qui Piscitelli riesce a recuperare la sfera se la sposta sul destro il signor Tufano chiama il calcio d'angolo ha ravvisato il tocco di Barone intanto merito una menzione il termine roster citato dal mio collega Giorgio mutuato dall'alfabeto cestistico ma ottimo per il trofeo Jack Piscitelli palla al piede lascia sul posto Tortora e si trascina la palla in fallo laterale sulla linea d'out pronto alla battuta esposito chiama la distanza movimento di Tortora viene premiato col suggerimento De Luca qui passaggio difficile riesce ad amministrare la sfera di destro serve Barone Esposito prova ad avanzare viene affrontato efficacemente da Piscitelli riparte in contropiede Leverton Piscitelli Piscitelli c'era sul destro serve Simonetti affrontato efficacemente da De Luca che ruba la palla persino al proprio portiere Tortora riparte il Real Madrid Tortora qui costretto a spararla sui piedi del diretto avversario Piscitelli rimessa laterale per il Real Madrid qui battuta lunga arriva il cambio battuta che annulla di fatto l'ottimo posizionamento di Napolitano che aveva provato ad involarsi a rete per timbrare ulteriormente il cartellino Everton possesso palla dai piedi di Ruggero si passa a Ciavoli Donato profondità per Piscitelli controllo difficoltoso ottimo il suggerimento per Donato che pensa al tiro viene affrontato da De Luca però portarsela su destro il tiro è l'ottima risposta di Barone rimessa laterale Simonetti Piscitelli viene affrontato bene da Tortora arriva un'altra rimessa laterale sempre per l'Everton Simonetti qui si gira molto bene prova a tagliare l'intero fronte d'attacco indomito Simonetti si carica la squadra sulle spalle ma non riesce a fare parecchio riparte il contropiede del Real Madrid con Napolitano fa spallate con un paio di avversari trattiene la sfera Tortora prova a ripartire Simonetti ancora De Luca De Luca doppio intervento qui Donato si oppone bene la palla termina in rimessa laterale fase di gioco abbastanza confuse palla che passa immediatamente da una squadra all'altra prova a mettere ordine a Locca serve Barone ancora a Locca ritorna dal proprio portiere che la dà in profondità ad Esposito affrontato da Donato ancora Esposito se la porta sul destro suggerisce per Napolitano scontro fra Napolitano e Lugiero il suggerimento in cross basso di Napolitano non viene raccolto da nessuno il numero 10 non è stato efficacemente accompagnato in questa occasione da compagni di squadra intanto Simonetti ancora Simonetti palla al piede cerca un po' di spazio prova il sinistro e arriva la segnatura che accorcia le distanze Real Madrid 5 Everton partita apertissima e da tripla in schedina assolutamente si Giando risultato assolutamente non scontato imprevedibile Simonetti fa il bello e il cattivo tempo in questo momento è un po' da solo non è aiutato dai compagni però anche come ha dimostrato in questo caso anche da solo può scardinare tutte le difese partiamo dal punteggio di 5-4 mentre il Real Madrid sta provando qui a concretizzare un'azione d'attacco Napolitano si è la porta in rimessa laterale ancora Napolitano spalla alla porta Napolitano il tocco di punta e Ciovoli è presente ottima parata quella dell'estremo difensore dell'Everton che in questo caso si è dimostrato ben attento al tocco di punta di Napolitano numero 10 anticipato i tempi di gioco provando il tocco di punta ma qui riparte l'Everton ancora Simonetti c'era sul destro prova a gettare a terra la porta ma la palla termina alta ben oltre lo specchio di porta presidiato da Barone che serve all'occa Piscitello in opposizione Esposito ne ha un paio addosso cerca una linea di passaggio pulita ancora Esposito sempre Esposito palla al piede serve all'occa tutto sinistro all'occa serve proprio col piede mancino Esposito ma Donato ruba la sfera Piscitelli sempre di piede mancino Barone risponde presente Piscitelli controllo errato Donato mette ordine serve Piscitelli che prova il tiro di primissima intenzione ma la palla scivola al momento al momento dell'esecuzione termina in fallo di fondo Barone porta pressing Simonetti ruba la sfera efficacemente si libera di un paio di avversari De Luca in opposizione Piscitelli il tiro e sbaglia clamorosamente in questo caso si mangia un gol praticamente già fatto a porta vuota Piscitelli e si dispera anche Ciavoli dal lato opposto e a bel ragione di disperarsi il porterone Ciavoli qui Piscitelli è già la seconda o forse anche la terza netta occasione che ha a disposizione per segnare ancora un gol ricordiamolo il suo gran gol nel primo tempo forse un po' svagato in questo momento Massimo ha bisogno di concentrarsi e di trovare la giusta la giusta chimica nel suo piede destro ci è apparso un po' mollo nella sua conclusione a porta come ti è sembrato Giorgio? ma guarda forse hai giustamente parafrasato il momento di Massimo Piscitelli è mollo è demotivato forse anche causa del risultato parziale però io lo conosco bene tecnicamente è un giocatore molto valido mi aspetto molto di più da lui intanto qui il Real Madrid ha guadagnato un fallo preziosissimo Napolitano illumina con le sue giocate appare un po' sornione ma ha già segnato sta guadagnando dei buoni falli veramente un giocatore incisivo nonostante il suo incedere tutt'altro che dinamico e vivace intanto gli affissionados Blanco si chiamano la bomba di Allocca il tiro rimpallato dalla barriera due uomini in opposizione per Ciavoli donato la deviata in rimessa laterale sempre Allocca dal punto di battuta arriva lo schema ma per un difetto di forma bisogna ripetere tutto donato spazza la palla è ancora a pannaggio dei Granata con Barone che guadagna qualche attimo preziosissimo lasciando la scivolare in fallo di fondo Piscitelli in opposizione a De Luca starse completamente diverse per i due calciatori ma De Luca a gioco migliore serve Napolitano Capitano Ruggiero Indomito in opposizione provava a farsi sentire anche col signor Tufano qui arrivano bei calci termina a terra Simonetti toccato duro calcio di punizione per l'Everton e come abbiamo previsto è arrivato il termine ultimo dei cinque falli dalla prossima azione regolare in poi saranno tiri liberi per l'Everton che potrebbe ristabilire la parità attraverso i tiri liberi che te ne pare Giorgio? è un bel rischio questo per il Real Madrid l'Everton presenta ottimi ottimi tiratori però conosciamo bene la squadra è una squadra molto rude quella del del Real Madrid e i falli forse erano pronosticabili però attenzione qui Napolitano la grande girata però credo che a lungo andare il Real possa portare a casa la partita intanto Donato ha provato ad involarsi a rete si è trascinato la palla in rimessa laterale De Luca sul punto di battuta serve Napolitano autentico faro del centro campo Tortora gira per Allocca un po' di spazio pensa al tiro lo prova totalmente sbilenco un tiraccio di un calciatore che nella prima frazione di gara si è dimostrato preziosissimo per ragguantare il pareggio intanto Simonetti prova a lasciare De Luca sul posto mantiene la sfera ancora Simonetti De Luca si aiuta con le braccia ancora De Luca ancora Simonetti scontro che si ripete stavolta vince il difensore adesso affrontato da Piscitelli scontro fra due fisici completamente opposti Barone ha provato a spedirla lunga ma Donato si è opposto bene rimessa laterale per il Real Madrid con Tortora affinità geografiche fra le due formazioni Real Madrid ed il Casamarciano nonché colori in comune per questo trofeo Jack colori Granata sono proprie anche del Torino mentre la sfera termina in rimessa laterale Donato ancora Donato serve Simonetti si ripete il solito duello stavolta vince De Luca Napolitano mantiene la sfera e arriva il fischio arbitrale anzi la rimessa laterale a favore dell'Everton qui all'occa ruba la sfera dei piedi di Simonetti Napolitano tenta il tiro e manca di pochissimo il bersaglio grosso riparte l'Everton con Simonetti palla al piede lascia a Donato ancora Simonetti poi l'avversario addosso Piscitelli sterzata rapida serve Donato la palla è troppo lunga non si intendono bene i due calciatori arriva una rimessa laterale per il Real Madrid Tortora all'occa ancora Tortora prova il break dentro il tiro a porta e la sfera termina in rimessa laterale punteggio ancora cristallizzato sul 5-4 Piscitelli palla al piede serve il giro torna alle parti di Simonetti manca un terminale offensivo Ruggero si carica la squadra sulle spalle qui prova il tiro guadagna un calcio d'angolo la formazione dell'Everton ancora Simonetti palla al piede il sinistro in opposizione De Luca rimessa laterale per l'Everton con Piscitelli che serve Donato torna alle parti di Piscitelli ne ha due addosso ancora Donato Simonetti affrontato bene dall'Occa pulito l'intervento sulla palla all'Occa prova di involarsi a rete Donato si oppone equilibri della gara appesi ad un filo con Casamarciano che oltre il bonus quindi il prossimo fallo ai danni dell'Everton potrebbe essere tiro libero il Real Madrid potrebbe ritornare in parità Barone per Allocca il tiro di primissima intenzione di Tortora che termina altissimo in questi casi meno male che c'è la protezione superiore del campo altrimenti la palla si sarebbe persa Donato per Simonetti Simonetti contro Capacchione Arcigna alla difesa del numero 9 Granata Donato prova il tiro deviato da Capacchione doccia fredda brividi per Barone assiste comunque la palla terminare in calcio d'angolo qui Piscitelli ingolosito dai movimenti del portiere cade nella trappola ancora Donato serve Simonetti di giustezza calcio d'angolo prova a capitalizzare la pressione offensiva Leverton De Luca svetta di testa Donato ferma esposito Donato guadagna anche una rimessa laterale servizio per Simonetti ancora Simonetti contro De Luca ancora De Luca che la porta dalla sua parte la palla Capacchione riparte in contropiede egoista in questo caso non ha servito esposito e viene fermato poteva essere il doppio vantaggio per il Real Madrid e invece c'è Leverton che si porta pericolosi in avanti ancora Simonetti che manca di poco il bersaglio grosso sì qui Capacchione è stato molto molto egoista ha sprecato una ghiottissima occasione per chiuderla qui questa partita questa vicenda mentre Leverton recupera un buon pallone ma tortora d'esperienza con intervento molto duro ma leale ma giusto riesce a scardinare i palloni dai piedi del bomber dicevo nell'occasione precedente Capacchione poteva servire molto tranquillamente esposito libero in aria libero di poter calciare a rete indisturbato ma Ciavoli si è superato intanto calcio di punizione per il Real Madrid sul punto di battuta stavolta dovrebbe esserci De Luca mentre notiamo Simonetti un po' disinteressato alla fase difensiva un po' scocciato indispettito dall'incedere dell'incontro potrebbe essere una chiave di lettura della gara del neo acquisto di Patron Ruggero una squadra che De Luca serve Capacchione uno schema donato in opposizione Capacchione ancora Capacchione a testa bassa arriva la rimessa laterale ancora per il Real Madrid dicevamo formazione inglese effetto sliding doors tantissimi giocatori che hanno indossato questa casacca sì la compagine di Ruggero era partita con i migliori intenti e anche devo dire con ottimi elementi all'interno della sua rosa però con l'avvento del calciomercato molti hanno lasciato la squadra tra cui c'è Marco Manzi tanto per fare un nome sono stati sostituiti questi calciatori che sono andati via con altrettanti calciatori di valore però arrivato a questo punto questa squadra questo Everton mi sembra un po' un porto diciamo dove più navi attraccano e altrettanti partono verso una nuova avventura tanto Piscitelli prova ad illuminare la sua serata qui il tiro di sinistro termina a lato rimessa dal fondo per Real Madrid con Esposito se ne trova un paio addosso arriva il fallo e qui sono tiri liberi si inaugura la sera dal dischetto con Simonetti che prende palla e si carica sulle spalle l'occasione dal dischetto molto sicuro con grande maestria guantato la sfera con le mani e l'ha posizionata intanto arrivano le vivide proteste dei tifosi dei tifosi madrileni sono calorosi sono spagnoli loro il destro di Simonetti contro Barone ed arriva la parata la grandissima parata del numero uno Granata che mantiene il risultato sul 5-4 aveva la possibilità attenzione Donato colpisce il legno clamorosamente di testa rimessa dal fondo e dovrebbe esserci un attimo di pace adesso prego l'isio la Real Madrid attenzione qui è qui ha provato la grandissima conclusione a rete esposito ha mancato il bersaglio grosso che rovesciata pregevole Donato Piscitelli è una congiura per non far parlare Giorgio Lisio intanto Piscitelli prova nuovamente il tiro a porta rimessa laterale Ruggero Piscitelli De Luca con il fisico si porta avanti carica a testa bassa la rete c'è il contropiede dell'Everton Piscitelli il tiro a porta manca il bersaglio grosso si dispera Patron Ruggero si dispera Ciavoli che ormai scalcia ogni angolo della porta ancora una volta fasi convulse di gioco Giovanni Napolitano torna in campo per dare un po' di ordine Ruggero si perde l'avversario Donato non se lo perde anzi spedisce in rimessa laterale la sfera ma arriva il fischio arbitrale la punizione e forse adesso c'è un attimo di pace Gianto sono successe talmente tante di quelle cose in questi pochi secondi che forse non ho tempo a riassumere tutte comunque squadre che dimostrano di come dire di non preoccuparsi del risultato parziale ragione per l'Everton che deve recuperare ma diciamo un occhio di riguardo lo dovrebbe avere il Real Madrid appunto per conservare questo vantaggio parziale fondamentale il Real prima stava rischiando di chiuderla questa pratica ma il tiro libero di Simonetti ha fatto sperare ha fatto pensare al peggio per i madrileni però il penalty è stato clamorosamente ma altrettanto fondamentale è stato l'intervento di Barone che ha salvato la sua squadra con una risposta molto reattiva molto precisa partita che non finisce mai Gianto ultimi 60 secondi decretati dal signor Tufano qui l'Everton ancora in avanti Simonetti il tiro non va piano piano di secondo in secondo attimo dopo attimo ed arriva la vittoria del Real Madrid punteggio finale Real Madrid 5 Everton 4 ed è grande festa per i Granata grandissima festa si Gianto è stata una partita veramente molto emozionante ricca di spunti e di grandi giocate ma anche forse con qualche errore difensivo che ha caratterizzato l'andamento del match sono due squadre dai contenuti sicuramente eccezionali l'abbiamo visto hanno regalato gol eccezionali alle telecamere di Videonola punteggio direi giusto nonostante l'X parziale del primo tempo il Real Madrid in qualche modo forse con troppi affanni è riuscito a portarla a casa ma un ore all'Everton che nonostante i 5 giocatori contati sul green del Maragana è riuscito a combattere a viso aperto questa sfida eccezionale bellissima emozionante lo spettacolo del grazie Giorgio intanto lo spettacolo del Maracana del centro sportivo Maracana e del trofeo Jack non termina qui ricordiamo il punteggio finale fra Real Madrid ed Everton vittoria 5 a 4 per i Granata ed andiamo ad ascoltare le impressioni le emozioni le voci dei protagonisti di questo match siamo qui con il presidente capitano nonché giocatore dell'Everton Ruggero una sconfitta che è bruciante questa contro il Real Madrid il tuo commento dal campo sì una sconfitta che brucia stavamo in vantaggio di tre reti ovviamente ci è mancato quell'agonismo quella voglia di vincere che purtroppo manca è mancato ci siamo addormentati abbiamo subito abbiamo subito gol su gol purtroppo ne abbiamo anche divorate ci siamo anche divorate molte occasioni da gol tra Piscitelli Simonetti un tiro libero e non potevamo fare altro che perdere sprecando così intanto oggi è esordito anche Simonetti ma magari manca qualche ricambio in panchina e si arriva al minuto finale con poca freschezza mentale questo sì purtroppo nella nostra rosa ci sono stati molti infortuni come Capano Castellano che stava facendo molto bene con la nostra maglia sono venuti a mancare qualche assenza ovviamente c'è sempre perché comunque venire a giocare ogni settimana non si può mai essere completi al 100% però penso che ci siamo giocate contro una grande squadra al gran completo credo abbiamo fatto una bella figura anzi forse meritavamo forse qualcosa in più sicuramente in conclusione una sconfitta che non ridimensiona le velletà dell'Everton ma quali sono le prospettive che attendono la squadra inglese? il nostro obiettivo ormai a tre giornate dal termine è ormai considerare questo piazzamento per affrontare quella che è la Champions League abbiamo con noi Raffaele Allocca migliore in campo nella sfida che le telecamere di Videonola hanno catturato se stiamo parlando di Real Madrid Everton risultato in favore dei madrileni abbiamo appunto il migliore in campo Allocca autore di due reti eccezionali un sinistro sempre caldo i tuoi i tuoi pensieri dopo questa bella vittoria niente oggi siamo stati fortunati perché la partita si era messa un po' era strana siamo gestendo prima stavamo perdendo eccoci innanzitutto stasera stavamo così stavamo con qualche sedia qualche qualche infortunio un paio di sedie nella porta e niente siamo stati pure fortunati stasera questo sketch più o meno ha ricordato i vostri le vostre mancanze dal punto di vista dell'organico un esposito non al meglio anche napolitano con qualche acciacco barone che ha giocato in porta come mai queste rivoluzioni purtroppo abbiamo un sacco di infortunati c'è Carlo con problemi alla caviglia Antonio all'addome lo stesso pure Giovanni e altri ragazzi Ettore problemi alle costole purtroppo ci sono tanti infortuni fortunatamente stiamo andando bene però oramai il campionato non possiamo vincerlo più però ci stiamo divertendo c'è rammarico c'è rammarico per quelle due sconfitte importanti contro Atletico e Napoli ricordiamo che con l'Atletico stavate vincendo ben 5-0 al primo tempo allora con il Napoli avevamo avuto anche in quella partita un problema di organico tanti infortunati mentre con l'Atletico c'è rammarico perché una partita sul 5-1 non puoi perderla devi solo gestirla qualche errore arbitrale qualche tiro libero di troppo e abbiamo perso la partita diciamo che lì si è incrinato il nostro il nostro campionato un'ultima domanda sulla vostra foga in campo le vostre partite sono caratterizzate da numerosi falli come pensate di risolvere questo piccolo problema è un problema che non riusciamo a risolvere siamo così siamo siamo vivaci diciamo così siamo casamarcianesi abbiamo con noi un magico duo protagonista di questa sfida che si è conclusa a poc'anzi appunto con la vittoria del Real stiamo parlando di Pietro Tortora e di Carlo Barone questa sera in vesti di portieri parliamo prima con Pietro che questo oggi ha bagnato il suo esordio con una splendida vittoria una vittoria tirata quali sono le tue impressioni a caldo? è stata una partita molto dura innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi del Trofeo Jack che come sempre fanno un ottimo torneo devo fare i complimenti anche ai ragazzi i nostri avversari hanno fatto una bellissima partita e anche i complimenti ai nostri tifosi che ci seguono dappertutto è stata una bella partita della partita posso dire dopo il 3-0 iniziale del primo tempo siamo stati un po' abbiamo non ci siamo sentiti troppo forti e poi è scattato il cuore Granata è il cuore Casamarcianese dopo le due bordate di Allocca ci siamo rimbigoriti e siamo partiti come un treno quanto serve a questa squadra il supporto dei suoi tifosi? il supporto dei tifosi è la prima è la cosa principale c'è il tifo il supporto c'è anche qualcuno anche qualcuno che ci critica da fuori come mister Piscitelli però anche questo fa bene alla squadra Carlo come rispondete alle emergenze sul campo come gli infortuni e alle critiche esterne? ma le critiche esterne fanno parte di questo gioco purtroppo secondo me a qualcuno brucia un po' che stiamo andando così bene proprio quando non ci dà una mano può darsi che anche questo un attimo solo pronto di Laurentiis Pietro per te e quindi andiamo avanti per la nostra strada senza nessuno e per quanto riguarda gli obiettivi mentre Tortora colloquia con il presidente Laurentiis i vostri obiettivi il campionato forse un po' fuori portata la Champions è il vostro prossimo obiettivo? sì il campionato purtroppo ci sarebbe piaciuto far stare lì a lottare ancora con il Napoli però devo dire che il Napoli lo sta meritando tutto questo campionato perché dall'inizio alla fine sono riusciti ad essere costanti e quindi grande merito a loro ci sarebbe solo piaciuto stare là insieme all'Atletico ma purtroppo quella partita iniziale non ci aspettavamo che ci segnava così ed è andata un po' ce la prendiamo come esperienza puntiamo alla Champions comunque alla vittoria della Champions benissimo con questa dichiarazione di intenti da parte dei due calciatori più rappresentativi del Real Madrid chiudiamo ringraziandoli grazie a tutti